Mobili, bagno, mondo, convenienza. Semplicità e praticità al miglior prezzo. Arredare il bagno può essere un'esperienza creativa gioiosa. Con i mobili da bagno, mondo, convenienza, si può ottenere un equilibrio perfetto tra estetica, praticità e risparmio. I mobili da bagno, mondo, convenienza, sono versatili e adatti a tutti gli stili e le tasche. Che tu preferisca il bianco lucido di Vittoria o lo spazio extra di Melissa, c'è sempre un'opzione per te. Per coloro con bagni più grandi, il mobile Greta di mondo convenienza è un'aggiunta elegante e sofisticata. Convenientemente sospeso con specchio LED incluso, è disponibile in diverse varianti cromatiche. Preferisci il bianco opaco o il verde salvia. Mondo convenienza, dà la possibilità di scegliere dal loro vasto catalogo di mobili da bagno per soddisfare i tuoi desideri di stile e necessità di spazio.